Lunedì prossimo, 11 gennaio 2016, su Rai1 va in onda la settima puntata del Paradiso delle Signore. Che cosa ci attende? Scopriamolo insieme grazie alle nostre anticipazioni. Mario, il fratello di Teresa, è arrivato a Milano con l'obiettivo di riportare in Sicilia sua sorella, dove ad attenderla c'è il fidanzato, abbandonato e ferito, ma nonostante tutto ancora disposto a perdonarla, purché torni a casa. Ma ormai il cuore di Teresa batte per un'altra persona, l'affascinante Pietro Mori. La ragazza non riesce a liberarsi di suo fratello e nonostante abbia chiaramente fatto intendere a Mario di non avere nessuna intenzione di lasciare Milano e la sua nuova vita, il giovanotto continua ad insistere. Mori nel frattempo comincia ad essere piuttosto infastidito dal legame che si è venuto a creare tra Teresa e Vittorio, specie dopo che il pubblicitario, fidato amico sino a questo momento, gli ha confessato di essere molto attratto da Teresa e di essere disposto a tutto pur di conquistarla. La paura di perdere la donna che ama spingerà Pietro a confessare a Teresa quello che prova per lei? La paura di perdere la donna che ama spingerà Pietro Mori.